Che mi sta? Ok? Allora, abbiamo deciso di distribuire questa macchina qua per il mercato italiano per le caratteristiche di affidabilità e semplicità d'uso oltre alla parte qualitativa dotata di testine di stampa con una risoluzione molto alta possibile stampare fino a 6 colori più i colori aggiuntivi e inoltre nei formati di stampa con singola o doppia o addirittura tripla testina quindi una macchina che unisce alta qualità e alta potabilità e molto intuitiva sia nell'uso che nella gestione dei soldi Ok